La stagione agonistica volge Romaia agli sgoccioli e tra gli ultimi appuntamenti del panorama dilettantistico abruzzese si segnala la ventesima edizione del Trofeo San Martino, una competizione organizzata dalla delegazione di Chieti che da alcune stagioni è stata intitolata al suo storico dirigente federale e che mette di fronte le vincitrici dei gironi chietini di terza categoria. Contrariamente alle ultime annate nelle quali veniva disputato un triangolare, il ridotto numero di gironi da 3 a 2 propone quest'anno uno scontro diretto tra le vincenti del raggruppamento chietino e di quello vastese. Nella fattispecie sono i padroni di casa del Ripateatina ad ospitare la manifestazione in concomitanza con la festa rosso-verde organizzata per festeggiare l'approdo al torneo di seconda categoria per la compagine del presidente Mauro Petrucci che centra il traguardo al primo anno di attività. La squadra di mister del Coco ospita il Torrebruna vincitore del girone vastese che torna in seconda categoria dopo un breve periodo di assenza. I padroni di casa partono subito in maniera arrembante anche se il provvidenziale recupero difensivo di Antonio Ritrivi mette il bavaglio all'estroso Stefano Tacconelli che non riesce ad approfittare della devastante ripartenza che lo porta quasi a tu per tu con Di Santo. Il 10 rosso-verde cerca di riproporsi pochi minuti dopo con un tentativo aereo che non li riesce adeguatamente. Di Santo ringrazia e il suo collega più avanzato Dario Lella cerca a sua volta di regalare il primo tremore di giornata all'estremo di casa Ciofani che in questa occasione viene preferito a Cicchini e che in due tempi riesce a limitare i danni. Immediata contro-offensiva ripese la quale si concretizza con la temibile fiondata di Primiterra che da lontano impegna il portiere Granata. Buona occasione dall'altra parte anche per il Torre Bruna con Giovanni Lella che calcia dal limite ma la traiettoria della sfera è prevedibile per l'appostato Ciofani. Scampato il pericolo i rosso-verdi di Mister Delcoco cercano di prendere il sopravvento e in qualche modo riescono nell'intento visto che prima del riposo è la porta di Di Santo a correre i rischi. Da prima con la gran fiondata di Lombardini da distanza siderale che spedisce la sfera a lambire il palo alla sinistra dell'estremo ospite e poco prima della mezz'ora con la devastante incursione di Primiterra che prova a colpire all'altezza del vertice d'area piccola. Ma Di Santo che in questo caso è providenziale per limitare i danni non può fare nulla sul perfido diagonale dalla destra di Luciani che si infila nell'angolo più lontano e fa esultare gli spalti di fede rosso-verde. Se la frazione si chiude con il confortante vantaggio di misura della truppa ripese il Torre Bruna ristabilisce il risultato in avvio di ripresa e Giovanni Lella pareggiare i conti dopo due minuti dal fischio di riavvio del signor Ragozzino di Chieti fulminando Ciofani su pallina attiva. Stefano Tacconelli prova a suonare la carica ai suoi ma la sua battuta dalla distanza non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. L'estroso calciatore del Ripa è poco dopo l'ispiratore per il neo entrato Masci ma quest'ultimo sparacchia sul fondo da ottima posizione. Va decisamente meglio alla squadra Granata che ha il quindicesimo opera il sorpasso con Capitan Salvatore abile a ribadire da due passi nella porta rimasta incustodita. I padroni di casa protestano invocando il fallo sul portiere di Diego Marianacci che costringe poi lo stesso Ciofani ad abbandonare il proscenio per infortunio sostituito tra i pali da Cicchini. Ma il signor Ragozzino non ravvisa irregolarità e convalida il raddoppio del Torre Bruna. Stefano Tacconelli è sempre propositivo tra i suoi e dopo aver perso il duello ravvicinato con l'estremo Granata lo infila dopo la mezz'ora approfittando della mancata chiusura di Mario Marianacci e li consente di prendere possesso della sfera all'altezza del vertice d'area e di scagliarla imparabilmente alle spalle dell'estremo ospite. Ma il risultato rimane incarreggiata per poco più di un minuto. Al trentatresimo infatti il neo entrato Cicchini entra in rotta di collisione con Giovanni Lella. Per il direttore di gara si tratta di fallo da ultimo uomo e oltre a indicare il dischetto arriva anche il temuto cartellino rosso all'indirizzo del numero 12 ripese. Mister Delcoco che ha esaurito i portieri a sua disposizione deve fare di necessità virtù e tra i pali deve spostare Lollis. Quest'ultimo non riesce ad evitare il calcio di rigore di Dario Lella che riporta i suoi in vantaggio a pochi minuti dal novantesimo e con un uomo in più. Il ripatiatina cerca di rimediare prima del triplice fischio ma il nuovo affondo di Stefano Tacconelli si spegne di pochissimo oltre il secondo palo. Quest'ultimo non vuole arrendersi ma anche il suo successivo siluro da limite in pieno recupero non è degno delle sue migliori giocate e alla fine è il Torre Bruna a gioire per la conquista del trofeo San Martino. Smaltita la delusione le due squadre con una larga rappresentanza della dirigenza federale presente all'incontro festeggia in una piazzetta del centro cittadino in un bel terzo tempo che rassiera in all'anima. Presidente Micelli dopo la vittoria in campionato è arrivata questa accoppiata del trofeo San Martino una soddisfazione doppia considerando che vi siete dovuti sobbarcare una lunga trasferta. Sì sì la trasferta è stata lunga comunque anche scorso la partita non è che mi è piaciuto tanto perché abbiamo fatto un po' troppo casino più che altro loro però abbiamo reagito anche noi e quello non è stata una cosa bella perché anche perché volevano fare una cosa di fair play e purtroppo è andata così però alla fine sono contento perché meritavamo anche di vincere questa partita. Adesso ho meritato riposo e poi si pensa al prossimo campionato di seconda. No cominciamo già a pensare al campionato prossimo senza spendere soldi però perché noi lo facciamo con lo spirito di stare insieme di giocare la domenica e dopo divertirci. A chi dedica la vittoria? A tutta Torre Bruna e ai nostri ragazzi che ci sono mancati negli anni scorsi. Mister del Coco anche se non era l'epilogo che vi aspettavate possiamo comunque trarre un bilancio estremamente positivo di quest'annata che riporta Ripatiatina in un campionato migliore in seconda categoria in attesa di poter rivivere l'epopea di cui lo stesso mister è stato protagonista dall'altra parte della barricata quindi da calciatore. Da calciatore ci troviamo un po' più su fortunatamente però adesso dobbiamo risalire piano piano. Sicuramente l'obiettivo era quello di provare a fare il salto di categoria con parecchie difficoltà però siamo riusciti a centrarlo quindi siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. Quindi volevo appunto ringraziare tutti quelli che mi hanno dato l'opportunità di fare calcio qui e di provare a fare qualcosa. I ragazzi dopo l'esperienza dell'anno scorso erano molto convinti e decisi a fornire un epilogo diverso. E' successo che in poche parole ci siamo ritrovati nella stessa identica situazione però l'epilogo appunto è stato differente quindi volevo fare i complimenti ai ragazzi che hanno avuto la forza mentale di riuscire a vincere quell'ultima battaglia a Canosa che ci ha portato alla vittoria del campionato. Un campionato molto livellato in alto tant'è vero che poi le prime due della classifica sono distanziate di un paio di punti quindi segno di grande equilibrio e di due grandi squadre voi e il Villa Santa Maria. Guarda sai io sono di Torrevecchia spesso sono andato a vedere delle partite di seconda categoria e non ho visto tutta questa differenza. Anzi sono convinto che le prime 6-7 del nostro campionato in seconda avrebbero ben figurato avrebbero anche quasi potuto sfiorare i playoff. Veramente molte squadre competitive dal Canosa al San Martino, Villa Santa Maria, Città di Chieti sicuramente ne dimentico qualcuna ma le stesse tre ville che magari poi durante il campionato ha perso qualche colpo. Il San Gro River, tutte società comunque difficili da affrontare per non dire di altre società che magari fuori casa avevano un po' più di difficoltà ma in casa loro avevano dei fortini inespugnabili. Penso al Monte Nero Domo o altre squadre di questo genere. Era la prima volta che affrontavo la terza categoria. In cuor mio mi ero detto che abbiamo quest'anno un po' più tranquillo. In realtà campionato a 18 squadre, turni infrasettimanali, un campionato davvero competitivo. Quindi volevo ringraziare anche i miei familiari, mia moglie e mia figlia che mi hanno supportato per le mie continue assenze. E comunque alla fine il risultato è arrivato, quindi siamo tutti contenti. E' mancata soltanto la ciregina sulla torta del trofeo San Martino? Sì, volevamo vincere come la squadra avversaria, purtroppo non ci siamo riusciti. Spero di non doverci riprovare più perché vuol dire che saremmo in categorie superiori. Comunque complimenti all'avversario che è riuscito a vincere la partita. Penso che non è stata oggettivamente una bella partita da entrambi i fronti. Noi non abbiamo espresso il nostro consueto gioco. Loro non li conoscevo. Immagino anche che entrambe le squadre abbiano comunque dato spazio anche a qualcuno che durante l'anno ne ha avuto un po' di meno. Quindi purtroppo non ci siamo riusciti. Comunque stasera c'è la festa della squadra. Per il campionato vinto festeggeremo una cosa anziché due. Però penso che il Paese avrebbe barattato tranquillamente solo la vittoria del campionato con tutto il resto perché era qualcosa di molto sentito. E quindi lo abbiamo dato, lo abbiamo fatto per il Paese. Comunque stasera c'è la festa della squadra. Comunque stasera c'è la festa della squadra. Comunque stasera c'è la festa della squadra.